Nell'incantevole scenario di Villa Bruno all'interno della biblioteca comunale Alagi, questa sera un evento straordinario, un libro meraviglioso scritto da Salvatore Biazzo, 60 dd dopo Diego. Tantissimi gli ospiti, oltre a Diego Maradona Junior, Giorgio Zinno Sindaco, Pietro De Martino, Assessore alla Cultura, Peppa Volio, Pepp Art, famosissimo vignettista, Enzo De Caro, amico straordinario, anche creatore della Smorfia, insieme a Massimo Troisi, Giuseppe Bruscolotti, Diego Armando Maradona Junior, come avevamo detto, Modera Savelio Russo. Un'idea meravigliosa quella che hai avuto, questo libro è un percorso vero e proprio. Allora, di Maradona tutti sanno tutto, per cui chi vuole immaginare che il libro sia una biografia si sbaglia. Il libro è un'emozione, l'emozione che prende una persona qualunque, di qualsiasi squadra, il giorno, nella notte dell'incredulità, quando si sa che Maradona è morta e nessuno ci vuole credere. E quello è il momento in cui si illuminano gli stati di tutto il mondo, improvvisamente, quasi che ci fosse stata una telefonata tra tutti e non c'era stato niente. Una specie di tantammo, qualcuno ha ritenuto che lo stadio illuminato potesse in qualche maniera ricordarlo. Allora, da quel momento in poi, io comincio a raccontare. Naturalmente, avendo inseguito Maradona per diversi anni, nei sette anni a Napoli, ma anche un anno prima e due anni dopo, è chiaro che rivelo anche dei retroscena sulla sua vita privata, sulla sua vita personale. E soprattutto cerco di recuperare l'immagine, perché nell'immaginario collettivo passa Maradona e uguale droga, uguale cocaina. Le cose non stanno proprio così, però non voglio anticipare niente, è meglio leggere il libro. Pietro De Martino, assessore alla cultura qui a San Giorgio a Cremano. Finalmente, oltre ai tantissimi eventi già vissuti, un evento straordinario. Sì, un evento straordinario, ricordiamo Maradona. Maradona, oltre ai successi calcistici che tutti conosciamo, per me è stato un momento di riscatta per il meridione, per il popolo campano. Quindi lo ricordo sotto questo aspetto, con molto piacere.